Ciao bambini, benvenuti! Eccoci con questo nuovo unboxing di Angry Birds Go! Ok, benvenuti, benvenuti! Questo è il nuovo unboxing, come abbiamo detto, di Angry Birds Go! Angry Birds Go Telepods! Che significa? Spieghiamole ai bambini! Queste sono le macchinine di Angry Birds Go! Di Angry Birds Go! Che è un gioco su iPad o dispositivi mobili, quindi smartphone, non solo Apple, quindi iOS, ma anche Android e non so se Windows Phone, non lo so, onestamente non lo so. Comunque, si può giocare su questi dispositivi. Ma come direte voi che qui ci sono le macchinette vere e proprie? Come si fa? C'è una coppa! Questa coppa si mette sopra la fotocamera del tablet, lo riconosce, e una volta che avete scaricato l'applicazione di Angry Birds Go! potrete usare questa macchinina reale anche nel gioco virtuale! Sì! Che figata! Vero? Senti, procediamo allo scartamento, all'unboxing, e dai, via! Facciamolo vedere dietro, papà! Facciamolo vedere dietro, hai ragione, non ci ho fatto caso. Allora, ci fa vedere dietro che cosa ci spiega? Eh, quello che dicevamo. Qui ci sono i passaggi di come si utilizza con tablet o smartphone. Con la macchinetta si mette sopra la coppa, la coppa fa da lente, quindi legge un codice, sembrerebbe un codice QR, e la macchina poi appare, viene sbloccata nel gioco. In questo caso ci sono queste due macchine, di un maiale e, non ricordo questo come si chiama, il bollicino, non lo chiamiamo, non so se si chiama bollicino realmente, bollicino si chiama. Vabbè, adesso lo scartiamo perché è inutile parlare, scartiamo! Sì! Ecco qua, e la scatola. Chiamocci più in mezzo che si vede un pochino in nero. Ah, che cos'è questo? Tipo un ostacolo da abbattere con le macchine, probabilmente, perché queste si possono usare anche con la pista di Angry Birds V, quella vera, non quella virtuale del gioco, del gioco, del videogioco. Quella poi ve la faremo vedere. Ok? Ok? Ce la fai? Se so io, sigo! Ok. Quindi, ah, girano anche le ruote perché hanno le palline sotto, hanno le sfere. Eh, già! Ah, ok. Questo è il codice che la coppa leggerà, la coppa. Troppo ho messo a seguire la fotocamera, le macchinine si incastrano così, giusto? Ok. Quello lo legge e si dà il via al gioco. In questo caso le macchinine possono essere usate anche sulla pista di Angry Birds. Quindi, diciamo così. Questa così. Queste prendono il via e fanno, ah! E sbattono contro il maiale e probabilmente il maiale cadrà. Vabbè, questo è. Sono? Come sono? Sono fatte bene? Sono brutte? Sono... Sono belle! Sono molto belle queste macchinine. E noi ci giochiamo e poi vi faremo vedere anche com'è il gioco di Angry Birds Go sull'iPad. Così vi fate un'idea. Perché così sembrano solo macchinine. È vero che scorrono molto bene. Scorrono bene. Le ruote dietro anche si muovono. Quelle davanti no, perché c'è la sfera. Non serve. Però quelle davanti, quelle dietro si muovono. Ok, bambini. Lorenzo, tutto bene? Cioè, va bene così? Vuoi dire qualcos'altro? Possiamo salutare? Allora salutiamo i bambini. Ciao! Ciao bambini! Ciao bambini, ciao ciao! Sul prossimo video... Sì, così si chiama comunque! Ciao! Ciao ciao!